C'ho due pezzi di ferro Sull'avambraccio Che cazzo è quella roba? Io mi immagino fondamento Che adesso quando gli ho detto Due pezzi di ferro sul braccio Si è guardato gli avambracci Si è guardato gli avambracci Ma che cazzo c'ho addosso Adesso arrivo la partita E finisco con Ziz Qui li regalo solo io l'abbonamenti Ema che ti devo dire fra Sei un uomo vero tu Al contrario di tutti gli altri pezzi Però sapete cos'è? Io mi voglio un sacco bene Stamattina quando mi sono svegliato Stamattina sei certo Mezzogiorno e mezzo Quando ho aperto gli occhi 20 minuti fa Mezzogiorno e mezzo Quando ho aperto gli occhi Ho detto cazzo ma Ieri sera Qua veramente vi devo dire una roba strana E' una roba che sto imparando In quest'ultimo periodo Veramente veramente strana Io quando sto in mezzo alla gente Non mi piace stare in mezzo alla gente Non sto più bene in mezzo alla gente Aspetta Non sto più bene in mezzo alla gente Ho voglia di avere Cioè preferisco piuttosto avere 150 200 400 500 occhi puntati addosso Ma qui con voi Nella mia situazione Stare in mezzo alla gente Con gente che dice cose Che pensa cose Che fa cose Che a me non vanno bene Perché succede sempre Mi irrita Cazzo Quindi odio stare in mezzo alla gente Adesso ultimamente Infatti mi isolo Infatti ogni volta mi isolo Prendo una, due, tre squinze E mi isolo Me ne sto per i cazzi miei Oppure prendo un amico Mi ci metto in un angoletto Mi faccio i cazzi miei E' meglio no? Bello Con Federica nel bagnetto Con Federica nel bagno Simpaticissima Federica ultimamente Devo dirti la verità Lei non manca mai Lei c'è sempre Ogni giorno lei c'è Si chiama Agorafobia Agorafobia Sì no 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 Ma quella è una fobia L'agorafobia Anche tipo dell'aereo Dei posti Non è che sto male Mi irrita la gente Diverso Mi irritano frate Perché dicono Fanno cose Che io non apprezzo Oppure vengono da me Mi chiedono Come stai persi E appena comincio a rispondere Io che sono una persona Molto sincera Comincio a rispondere Vedo che non c'è interesse Nell'altra persona Ma allora che cazzo Mi chiedi come stai Se non te ne frega niente Io sto bene così Cioè nel senso Non ho bisogno di qualcuno Hai capito Sto bene qua Con fondamento Prende la parola a fondamento Con fondamento Prende la parola a tutti Perché ormai Si sa che io a fondamento Prendiamo parole a tutti Ogni tanto Sentire qualche cazzata Che ha da dire Francesco Perché di solito Spara solo cazzate E basta Poi c'è Nardocci Che si lamenta La mattina a sera Preferisco questa realtà Hai capito Bella Persia Ci vediamo a Caposile Ecco vedi Ecco E vai così Porco duro Ieri sera Ieri sera No ieri sera Tornatele un'ora Mi fa Oh ma andiamo a Caposile Domenica io Porca miseria Ma mi son fatto due date Questa settimana E va bene Ne fai un'altra Ma sei seria? Ma no raga Vai a fare una chiacchierata Con uno psicologo Chi io? Frate io sono lo psicologo Di me stesso Se mi dai i soldi Faccio l'abbonamento Maurizio Maurizio Sei serio Maurizio? Maurizio dai 4 euro e 90 Se sei così in difficoltà Scrivimi in privato T'aiuto frate Fondamento su Instagram T'aiuto io Sta scherzando Sta scherzando Ho capito? No sta scherzando Ho guardato le sue foto profilo Frate Era una bellissima famiglia Enrico No era una bellissima famiglia C'ha un bimbo che è bellissimo Lui non mi sembra per niente Un uomo Perso Che chiede disperato Sì esatto Ti salutiamo Maurizio Ciao Maurizio E fatti l'abbonamento Non perdere tempo Persian sei un carciofo Sono buoni i carciofi Sei dio? Sono il mio dio Non sono il dio di nessun altro Sono il mio dio Che bella risposta questa Non te l'aspettavi Questa non te l'aspettavi Siamo tutti stupi Ah Voi immagino che volete giocare voi? No Bev come vuoi tu Ma si gioca anche Si gioca anche No perché Domanda Qua di solito ci pensa fondamento Il bello di avere moderatori non pagati Stavo pensando ma Domanda sorge spontanea Come vogliamo fare con sta privata? Cioè come facciamo? Facciamo entrare gente a sgunfia Dai Vado a fare la privata Aspetta Come si fa? Aspetta Partite private No Devi andare su Si ma io non voglio giocare Io non voglio giocare con shock Perché shock è dentro la mia partita Ecco C'era giù Eh c'era giù C'era giù E c'era giù E c'era giù E c'era giù E c'era giù Emanuele grazie per l'abbonamento Bello mio Allora partite private Warzone Mi chiamo invita un po' di gente Quartetti Rinascita Rinascita quartetti Vai rinascita quartetti Scegli la tua squadra Vado Uno Allora La lobby se non sbaglio E' aperta Quindi possono entrare Tutti Allora adesso Amici miei Amici miei Andiamo su Il nostro Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo ancora il coso? Ce l'abbiamo Eh dove cazzo è? Come si fa? Abbandona gruppo? No 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 Cambia gruppo Sto invitando io dal gruppo Eh invita Cambia gruppo Eccolo qua Persia in Family 11 online su 77 E vabbè però Fratele Porco 2 I prezzi si aprezza come Come fondamento Grazie Mauri Bellissime parole Ci troviamo No scusami Non l'ho acceso Devo ancora accenderlo Il bot Dammi un attimo Dammi solo un secondo E che ci ha dato Questa grande dritta Il torero Eh si E che grande Entriamo Entriamo con le M4 E che grande Hai capito? No way Ma c'è anche Davy Dux? Si si Sto l'ho invitato io Sto con il torero No rigaspe Raga buongiorno C'è posto? Pronto Mi sentite? Pronto? Qualcuno mi sente? Pronto? Piacere Ciao Piacere Ciao bello Ciao vabbè Scrivere Posso entrare Inviate Sto ragazzi 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 Ascoltatemi attentamente C'è una richiesta Da mandare Al nome Fissato Nei commenti Mandate la richiesta Col nome lì E vi facciamo entrare Tutti Fate l'abbonamento Però io sarò buono Sarò buono Vi faccio entrare tutti Oggi però Fate l'abbonamento Non fate i tirchi Ok? Anche follower Anche follower Oggi anche follower Poi non dite che Non mi voglio bene La gara è Adamsa Mi ha ragazza meu Nananan nah Marco Red Eddy Scrazi tasti guarda, tasto eh, rivolve no oh, sentite oh, sentite ah 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 ma quindi eh, sto accettando no, ma mi chiedo ma sta gente entra o non entra? eh, li sto anche invitando ah, cicci possiamo andare, dico, da marius gamer che mi sembra solo eh possiamo provare ma perchè non entrava volo direttamente qua, scusa che senso ha eh, lo so bene non so finito no, già sono in due ma ma che foro raga ecco il persiano prime quante siete? sbagliato ragazzi io non lo so, ho fatto due ragazzi siamo in quarto si spegne il telefono ok, ora c'è cazzo eh dai, così si può fare 19 persone porco due o e non risponde Antonio come entro ho appena spiegato ho appena spiegato ve lo rispiego c'è un nome fissato nei commenti c'è un id fissato nei commenti lo vedete? c'è un id fissato nei commenti aggiungete aggiungete quelli d no, no, no allora che va bene allora ragazzi vedete il settaggio no, io non ne ho della eh di cosa ce l'hai? io ce l'ho della guerra voi ma non ce l'ho da me qua ce l'ho ma è livello 50 le private sono tutte sbloccate si ah vabbè dammi saltaggio allora di cosa? dalle una guarda ok allora te la da lui perchè non ce l'ho c'è stati? un bagliatore di rinculo e il suo lì ok perfetto maca mai siamo qua prendendo un randellato lo sai cosa bevole di questo sì non so neanche se grazie a tutti grazie a tutti ciao ciao mi sentite eh? eh si dici di togliere il cross play a chi è da console di attivare il cross play di attivare di attivare il cross eh vabbè togli metti fai comunque tu a te scimari da mia eh ragazzi dovete per chi per chi gioca da console gentilmente attivate il cross play ragazzi attivate il cross play va bene? no 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 io ho già startato ho startato ho startato ah è startato ok arrivo intanto ragazzuoli vi saluto tutti che non vi ho ancora salutati vediamo un po' chi abbiamo abbiamo Ercolani ciao fratello spero tu sia entrato bella Checco bella Antonio a brother private come faccio con l'IDD? vi ho già spiegato persi private terzetti o quartetti siamo in quartetti come stai check it out come stai Filippo come stai Antonio Lorenzo Filippo nooo è crashato Tyson oh che ha fatto? avrà accettato questo no way rifare aspetta facciamo così ma devono rientrare tutti così ok rientrate tutti rientrate tutti la lobby comunque ripeto è aperta quindi potete entrare veramente tutti chi è già mio amico chi è amico di Tyson può entrare senza ricevere l'invito basta che attivate il crossplay una volta che avete attivato il crossplay potete entrare raga cioè è molto 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 semplice cioè senza che state lì ore a preoccuparvi di oddio come faccio è molto semplice raga siete pronti? siete carichi? siete pronti? siete carichi? vi cerco eh venga a cercare pronto? salvio? si mi hai seguito a ruota bravissimo ok ok quando vuoi quando vuoi siamo a fare private broschi io sto rinvitando tutti quelli che mi hanno aggiunto non so se dimentico qualcuno bello di casa ah si si 35 fai non tocco più niente ciao Filippo ciao Matteo ciao Cristian ciao Andrea come state? ciao Thomas ciao Michael ciao Luca ciao Vincenzo ciao Alex Jacopo Rezzan sei mio fratello ti vorrei toccare tutto il p***o porco due che traccia dicono volete che venga anch'io? si fatevi l'abbonamento il party di stelle non è stato raggiunto cioè state lì a guardare la live c'è a malapena sapete accettare gli inviti come bisogna fare per entrare allora facciamo così Tyson se gentilmente mi scrivi un messaggio in chat su come bisogna fare per entrare ti fisso quello in alto insieme al tweet perché qua me lo stanno chiedendo ogni due minuti non c'è 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 il troppo che che chiedo chiedo già scusa ti ho messo eri mutato quando hai detto quella cosa ti ho scritto il commento con la con lì mamma mia quanto sei bravo Come fondamento Frizo Anzi Celle Eh scusami Bagni Forco due Sono un hangover Scusatemi Mi piace il cazzo Ah no la figa Armi no Arrivano Arrivano Non ho armi Da me sopra Da me sopra Merda Non ho armi Persia sta per morire La terra fuori Ma li giude Ma è altissimo il blu Ok Oh raga ma Arca trovi Abbiamo quasi il lodi Abbiamo il lodi Venite dove andiamo Sono shop Arrivo Ok Lo tiro qua fuori Dietro Ok Arrivo Soldi Ok Ok Tieni Vai di copro Metti a terra Metti a terra Oh raga comprate sto cazzo di not out Si muove diverso in privata Secondo me Si 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 muove tutto strano Molto più fluido Oh e fermati per dio Adesso ci arriva un bombolone Nooo E' vero C'è le classi diverse Le classi Le classi Mi sa che il persi scende L'ha preso Nessuno ha preso Nessuno ha preso Neanche i sedi Lombra di una persona Siete Non è andato lontano Non è andato Sì ma frate ma è sbagliato sto cerchino Oh bombi No way Mi hanno fatto Mi hanno fatto Mi hanno fatto Da sotto Da sotto Da sotto Da sotto Occhio C'è un'altra a destra Bravissimo E io ho sbagliato Classi Cazzo Oh L'Owen Che non faceva danno Sto Non torno da voi Raga perché Pieno di gente Vado un attimo a prison Io ne ho fatti tre Da una mano Uno Pure uno solo Mamma mia Le mp5 come so Quella di mode warfare Porca droga Verso nave c'è gente Verso nave Sì Sì Due a terra Due a terra In nave Facciamo un altro drop Siamo qua Siete ben in soldi Facciamo un altro drop Terra 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 Oh mamma mia Sul tetto No Dal tetto 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 Raga Comprate un altro drop Un attimo Dai prima che finite i soldi Sempre comprare un drop Appena avete i soldi Così ce l'abbiamo sempre Rientro Fondamente Ce l'avete qua Lo so Arriva Arriva Di gente Porca droga Sì Tutti qua Qua sulla nave Mio A terra Bravo Mamma mia Ho provato a confermare Ma non riesco Mi bussiano Mi bussiano A costa me Giù Giù raga Giù 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 Dai Soltai 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 Bravo Hai visto Quale Peccato di Nacqua Braccatissimi Questi Ma Vieno Quanto No Quanto Ti sei fatto Wap Perché Lo devi Conferma Ma Dovevi Conferma Quello Fra Siamo Vai Dai Guarda Qua Stava 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 Porco Ciuda Li hai messo A terra Rientra Dietro Ricari C'hai Due Avanti E te li Fai No Dovei Scon Vabbè Vabbè Lascialo Dai È la mia Prima No Ma Glielo Dico Per migliorà Aspetta Mentre Arrivo Subito Vai Vai Quella Lì Che è davanti A me Che si è buttata Nell'acqua Di fronte Alla nave Ragazzi Sono bellissime Che comunque Se li guardi Sono chiusi Fra Due stanze Queste Sì Fra Va tutto Bene Solo che Hai consumato Un caricatore A conferma Quello Eh ma io Non ho sentito Il secondo Ma Ti è passata Avanti Comunque Sia Normale Che nelle private Sono tre o quattro Attaccati No Metti una A terra Gira Cambia Lo confermi Da sinistra No Guarda Questo Come si muove Sto Ne metto una terra Gira Eh lo confermi Metto una terra Gira No no Ti hanno detto La ruota Anche perché Non tu hai errori Che fai Cioè Wee Ho pavu Che La faccio Ropla Stai pure tu Dai Stavo spingi Già stavo a 6 kg Eh io Quattro dietro di te Cazzo Infatti Solo danni Vai giù Eh Ma Di pro Cioè Comunque si Pram È difficile Da accettare Ma Privato Dobbiamo Giocare Insieme Perché Io mi trovo Sempre Quattro Di loro Davanti No Sì sì Vabbè Ma Stavo a giocare Bene E N'è C'è il problema Siamo Andati Là Come pazzi Più che altro Siamo Trovati Pure 2-2 Cioè Io Pure Con uno A fianco Risco A giocare Bene E Mettiamo 2 a terra Switchiamo Smoviamo Che vi Metto Smoviamo Voltamente L'H4 Cazzo Cazzo Fa meglio Entra davvero solo Con un amico Chiuso Come chiuso Sempre 19 Cazzo Eccolo Eh Fanno bene Non li giudano I dimbo Però Magari Una vez Ma la deve Fatta Volentì No Ma io dico qua è live, no? In gioco Non te vedo più Vabbè manco però di vestirsi tutti attaccati a quattro per vincitare Eh proprio se stanno mandando la gama a me Ma... ma penso che tanti vogliano vincere Porca troia Oh guarda ci sta sta gente qua alle casette Da vicino al living Qua stanno là da inizio a partita Madonna raga ma c'è un sacco di gente che sta ricondividendo i miei video Su Instagram Vabbè è meglio Bellissimo Carica Scorpio Sono andati Grazie Grazie Tutti insieme ragazzi Che spingiamo di brutto oggi pomeriggio Va bene Voglio vedere Voglio vedere Marco Reano Da posto fra Grazie per la condivisione fratello Chi abbiamo poi Abbiamo Andrea De Angelis Grazie Grazie per la condivisione Francesco Francesco Nella mia Nella mia privata Vieni dai I fiori fuori dal balcone Ah ok 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 Pittare Vediamo Vediamo quanta di questa gente dopo questa live farà l'abbonamento al canale Ricordati Ricordati la classe Persi dopo Che classe Che classe? Ah no l'ho fatta la classe Il punto è che io sono abituato quando prendo la loadout di scegliere la prima classe La prima La prima qua non è la mia Sì Andrew sto bene sto bene Ho inviato la richiesta a Tyson Tranquilli che appena finisce sta partita Tyson vi accetta tutti No li sto accettando tutti Ok Basta che fate partecipa poi Poi vediamo se siamo in tanti ragazzi facciamo caldera KMG Però non riusciremo mai a fare un caldera Se non raggiungiamo secondo me 150 condivisioni ragazzi Ci vogliono 150 condivisioni qua per riempire caldera Ci vogliono per forza Dai forza spicciamoci mano che saluta mano che saluta mano che saluta Dai Francesco Non è pure forti un z divertente eh Facciamo un botto di chili No Giugiola nooo Nooo C'è Torero c'è Torero c'è Torero Torero li spacca tutti C'è Gerry Gerry a terra? No Attenzione Antonello 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 la Mazza si stanno gi- Madonna guarda che Tutti con ste skin pagate porco due Guarda le armi che quello dice Pagate Pagate Ti amo Ti amo Marco Dio Schioppate pagate ti amo Torero questo è Torero E' lui è lui Torero è un uomo vero Giovanni grazie sei tu numero uno Frate fai l'abbonamento razza di t***o chifoso Let's see m***o Oh main it Vai vai quitta quitta Non posso Vieni a sapere chi è Jerry Tre volte mi è atterrata Una grande C'è Jerry C'è Jerry sei Nardocci vieni a far due game Dai Nardocci Per piacere Allora se vieni a far due game Se vieni a far due game Frate Io e te stiamo in partita insieme Ti prego Ti prego vieni Vieni ti prego Ti prego vieni fra Vieni dentro Prima? Sì sì adesso Adesso la scelgo pure io un attimo Vediamo un attimo con chi giocare Io giocherò con un po' più Adesso facciamo un'altra partita Noi quattro insieme E poi faccio una partita Con un po' di gente a caso Aspetta aspetta Facciamo andare a giuggiola con noi Vieni squadra 1 Raga fate partecipare Mi metta in vita di nuovo tutti No no li devi invitare No fidati questi qua Fai un invito random a tutti Esatto Basta non lo farò più Ma chi se ti ricorda Ma invita tutti Invita tutti Mi stanno invitando loro a me Perché sono mongoli Bravissima 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 Sì Davy Dukes! Uno che lo trovi Oh, ragazzi, sta a posto? Comunque GG, bravo, bravo Prima ho sentito che lo nominavate, perciò ho detto Davy Dukes, si, si, è il nostro amico Squadra 1, giugio No, ma che onore Ma no, c'è persia Oh mio Dio Allora, se non mi mandi le foto dei piedi Probabilmente quando scendo giù a Napoli Non ti vengo neanche a trovare No, ma se mi vieni a trovare Perché Ischia è bella, non c'è bisogno Ma io se vengo a Ischia non te lo dico, non hai capito Ma a ver, se viene a Ischia la giugio La giugio, la giallo, lo sa Ma cosa ti pare? Ma cosa vuoi sapere? Ma guarda questa Ma guarda questa Questa si è montata la testa, frate Digli qualcosa Ma questa sta impazzita, frate Impazzita La droga dà, la droga toglie Persian, cecchina Ti cecchino tutta, Sara Cecchina tutto Tutto Dentro e fuori, avanti e indietro Nell'orecchio pure Mi dissocio Mi dissocio Naso pure Toccami Fabrizio Fazio, sì Sono andato a Ischia Hai le mani pulite, fondo a me? Hai le mani pulite, Fra? No No, Fra Sara, c'hai le mani pulite? Calcio I merito ti a base Stabile Che ti devo mettere? Io c'ho Io c'ho Flemma Flemma Celerità Impugnatura Confettuccia 60 colpi Punta cava Confettuccia Non lo dice bello Fondabile È compatta, eh Come Centro canna Bravo No, io mi pare Mi diraglio stabile Passo di flesso Pure, pure Pure È meno stabile Pure, vabbè L'ultima canna è buona Ma se ci metti la penultima La penultima Ti ho visto ieri Da long range Da club C'è gli spazi È immobile È immobile Ti ho già fatto Via Ma non parte Perché mi sa che c'è uno Che deve andare in squadra Perciò 40 di 40 Eh, ma se tu vedi Non sono tutti completi No, no Sono tutte complete Ma fa bocca Ah, ci ha inviato la richiesta Man, se ti va Accettala A me l'ha inviata Frate, non mi arriveranno mai A me le richieste Lascia perdere Ne ho troppe Ancora ferme Ah, sta live Sta diventando un video Per Pornhub Ma che, frate È Per così poco Per così poco Frate, so fare di quei numeri Che, guarda Ma ti ho già Non ce la faccio Non ce la faccio No, no Ma anche io Sara 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 S'è già bagnata Sì Per un cecchino Per un cecchino Mi è troppo facile Per te Amore mio Tranquilla Ma sì Ma non ti emozionare Puoi star tranquillo Vabbè dai Non usciamo gli atteri Ma nemole da soli Non serve che ti emozioni So che fa strano Sentirmi in cuffia Che mi senti più vicino a te Più, più, più Dentro Forse no Sì, anche perché Devi sapere Devi sapere Che quest'oggi Mi sono arrivate le cuffie Che mi ha consigliato Il buon fondamento Quindi ti sento Una meraviglia Mamma mia Pensa che bello Se al posto di arrivare Le cuffie Pensa Pensa che bello Se al posto Che arrivassero le cuffie Arrivava qualcos'altro Però va bene Dai, punti di vista Come mi sentivi bene Come mi senti bene Oh, non parte, regà No, no, parte Dagli il tempo Dagli il tempo Ciao Persia Ho comprato Ho comprato La memory card La playstation 1 Posso inserirla Nella playstation 5 Sì, fra Sì, fra Sì, fra Sì, fra Sì, fra Grande Carmine Sono sordo e non parlo Sì, sì, Carmine Carmine Grande Carmine Comunque stanno Trayardando tutti Arrivano Non l'aspettate Vogliamo giocare per vincere? Eh, sì Ok Allora, sarà quinta Saranno le classi Sala 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 Sarà, devi fare una cosa Tu devi stare ferma Squinici Ti fa sempre respawn Carmine, ti voglio bene, frate Va bene Ok, io faccio quello che mi dici Tu, fondate Andiamo ai bagni Sando, vieni con noi Eh, no, no Eh, ma mi sa che C'è un'altra Che il GV è bene, no? No, no, c'hai Sotto titoli, frate Ah, ok Ti vogliamo bene, Carmine Grande Sto salendo, sto salendo Sto salendo, sto salendo Venite, com'è? Andiamo, andiamo Salgo da questa Ma c'è un muovimento di merda È lì, mi sopra È lì Abbiamo il lotti Andiamo, 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 andiamo Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo No, no, c'è gente dietro di me No, 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 non li faccio 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 Eh, vieni, vieni Io ho dimenticato in che si fa Trasporto Dove cazzo l'hai tirato? L'ho buttato sopra Sopra, 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 sopra Non li faccio Attento, attento Usciamo insieme Dai, andiamo verso control Venite con me Ah, c'è 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 Arrivo, arrivo Arrivo, arrivo Vieni con me Ok Hanno fatto l'odio a Nova Vanno, vanno, vanno Venite destra, 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 destra con me Destra con me Siamo a casa mia Guardali, tutti appiccicati, guardali, guardali Uno è basso, mi sa, eh Sì, sì Uno è basso, lo piglio io Serve il supporto Ci sono buttati Sì C'è uno sopra, uno sopra, uno sopra, uno sopra, uno sopra a sinistra Sì, che uno sopra a sinistra, fra Uno sopra a sinistra Guardalo, 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 guardalo Eh, vicino al contatto a spavarlo Stato Ci stanno a stream smiperà Adesso c'avevo la tua life, va bene Certo Mettiamo un altro po' qui, qua saldi Eh, c'è gente top, prigione Eh, intanto Tara, Tara, scendi, Tara, scendi Sì, 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 sì Eccolo qua, eccolo qua Raccano Io faccio il giro, raga, mi hanno rotto il cazzo Sta nelle scale Hai fatto quello che volava, Anno Sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo Fatto, 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 fatto Ma, però, togliete le life, raga, dai Ci dobbiamo divertirmi, raga Allora, c'è ancora gente top prison, eh Bombardo, bombardo di nuovo Eh, sei con metà Due spacco, fermate La terra top, c'è n'è una, a destra, due A destra, due, a destra, due A destra, due, in mezzo alle scale Bravissimo Fortunatissimo Si muove diverso, comunque, in privata, ve lo dico Bravo La gente è tutto Uno da me, uno da me Eh, non so, non so, non so, bravo, mi sono piastrato Restate in vita, sei secondi Adesso è in aria Bravo, dai, bravo Sto rientrando Vado a Lodi Siringa Cambia, cambia sport, cambia sport Gente là, eh Mi hanno, mi hanno stuprato a Lodi Non vanno giù, comunque, raga Non vanno giù, ve lo giuro Dove stai andando, giù, giù, giù No A cercare una C'è lo down, c'è lo down Una kill Ma Lodi è prendibile Sì, io l'ho appena preso Difficile Ah, lo so, lo so Sì, sì, sì Io prendo Lodi e vado a control Qui sono anch'io, control, vieni E lì però c'è gente Vieni Gente che è a terra, sopra? No, no, forse è Lodi, bravo Forse è Lodi Dai, busciamo, vieni via Dai, gli un po' di anticipo Vieni via, vieni via, vieni via, vieni via Si bussia, si bussia C'è Torero Enrico C'è Torero Enrico qua Oh, no, per te Bello, bello, guai Io sono specialista Bello Ma siete sempre appiccicati, oh Sempre appiccicati stanno Non camperare Sempre appiccicati stanno Che noia, cazzo Che noia Vabbè, l'hai fatto Ho preso lo specialista Sono esploso, frate Erano in tre attaccati No, 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 no Che sta qui No, no, no Eh, sì, porto Sarà, tre secondi Sembolo, sembolo Ok, fai quello che vuoi Fai quello che vuoi Vabbè, regate Dai, scendete qua, scendete qua Sì, sì, sì Dove? Al ping Ah, ok, ok, ok Wow, carabin cooper Ecco Hai ragione Siamo a prison Abbiamo l'oddy Abbiamo l'oddy Loddy, loddy, loddy Sì, sì Arrivo Non ce li ho io Stai dormendo, porco Non ce li ho io Stai zitto, non mi rispondere Sei pure più piccolo di medio Dai, rega, andiamo a prison A farci fuori questi Che mi hanno rotto il cazzo Sono in tre appiccicati Guardali sull'OV Guardali Questo qua ce l'ho io da solo Questo qua ce l'ho io da solo Sto andando laterale Sto andando laterale Ah, ti pushano due Due, tre Sì, sì Sono tutti appiccicati, rega Guardate l'altro dove l'ha dato No, l'ho visto, però Tutti appiccicati Ma mi sentite voi a me? Sì Ah, ok, no Perché non mi caga nessuno Porti chiari Sto arrivando, sto arrivando Vengo a prendere le armi qua sotto io Sì, sì È top, top, top Io non posso andrò Io non posso andrò Capito? No, no, no Non lo posso arrivare la mia Uno dietro, uno dietro Un altro, fatto, fatto, fatto Oh, qua sopra, qua sopra No, c'è te fuori Qua, qua, qua Staccato Eh, lo so che No, non ce la fai, ce la fai, bravo No Fatto pulire Merda, ma No, no, la torre, la torre, ma cosa fa? Non ci giade Di Non ci giade each Grazie a tutti. 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 No, no. caccia fondamenti persi si digli che ora il toro gliela fa pagare il toro ora lo rompe arriva arriva mi ricordo che era una classe a caso per dell'ouen Vai improvvisata proprio Improvvisata proprio Classi esotiche frate 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 Grazie a tutti Venga, ciao Alessandro Grazie per la sample Ci vediamo sotto prison Se siete delle palle Eh, ma vanno tutti altrove Meglio però Vogliono fare tutto Ricordati che la Esatto La preta non va mai dove vanno gli squali Senti Massimo Ma vogliamo far vincere Allora tu devi stare zitto Che nessuno ti ha invitato E già stai a parlare Devi stare zitto Sì, infatti Sei un imbucato Sei un imbucato Senza abbonamento Ah già Fermi Guarda come se ne vanno Guarda come scappa Guarda 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 No, le abbiamo giusi No 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 Ok Soldi Andiamo a farlo allo shop di là Ve li ho pingati Allo shop dove c'è il contratto Oh, c'è gente Guarda dove sono io Guarda dove sono io Noi su non mi caga Ma scusami E' bravo Mi avete rotto il cazzo Ok Vabbè Ho buttato il bombarda Buttalo 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 Dai Vittato Bombardati Loro Visto Camberato Quattro C'è un altro Restate in vita Restate in vita Quattro secondi Due sotto No Guarda come giocano Guarda come giocano Guarda 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 la porta Guarda la porta Che lurdo Guarda 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 in quattro principianti dai rifammo un po di soldi qua dai detto ci stanno soldi ci abbiamo anche abbiamo si si arriva mi dame la mano i e i 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 quando non riusciamo a fare un programma serio per le partite con il sub terci presto ho deciso che a settembre se tutto va bene ricominciamo a pieno regime frate perché poi quest'anno qui sarà sarà veramente devastante per me quindi spingerò come un pazzo giocano solo gli abbonati no andrea giocano tutti però se vuoi rifatti l'abbonamento ragazzi ma perché siamo in 28 ma c'è ma che ne so la gente non entra oh mi date il bufalo mi date il bufalo mi date il bufalo addio canguro come chi è il bufalo vabbè non ce l'ho ah mi stanno scopando il cervello questi nomi che vuoi da me ma entrate raga invitate anche gli amici ti ho invitato fabio entra dai buon fabio dopo facciamo uno insieme fabio vabbè comunque è bloccato 28 secondo me si è buggato dai esci esci di falla bro qui via buona fortuna a tutti ah il singolo bravissimo bellissimo fondamenti ci vediamo sotto prison come state ragazzi ciao Enrico come stai ragazzi squadra 1 vai dove cazzo vuoi tu vai dove cazzo vuoi tu tyson è il singolo è il singolo raga è il singolo il singolo ah il singolo eh ora vediamo se fate più i fenomeni in quattro a pusha eh tutti i taccatini tutti i taccatini basta tacca fare sempre ah ma è il buffo ma è il buffo andale andale invitare tutti invitare tutti invitate pure i vostri amici datemi la mossa riempiamo sta lobby non perdiamo tempo principesse datemi la cazzo di mossa ma tu è di prevenso il mona ah 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 ora è più calma con più calma per favore con più calma perché no vediamo dica dica ma perché qui la squadra è so complete perchè sono bloccate ma sei ma sei mongoloide frate siamo in singolo tra muovi prendo tutti e schiapponi invita invita gli amici invitate gli amici regali invitate tutti i vostri amici datemi ragazzo dimostra riempiamo sta lobby si pronto minchia sarà adesso ti tiro una di quelle cecchinate porco 2 che te la ricordi per sempre porco dio mi invito a fenetico porco dio mi dissocio è la mia prima partita del singolo nel rabbit quindi non metto il cazzo ma si ma invitiamo invitate qualcuno giochiamo a caldera siamo in 26 persone francesco bravo ma cosa ti sei calato porco 2 giochiamo giochiamo a caldera si in 20 persone ma come state bruciati facciamo una privata facciamo una privata su caldera mi dissocio di caldera ma porco due ma che stiamo facendo adesso stiamo facendo private regà ma una caldera con 26 persone ma ce la fate no cazzo almeno 50 vergogna riusciamo a 50 persone ma se siamo in 27 adesso ma veramente 28 ma so questi stanno più bruciati di america questi stanno più bruciati di america invitiamo questi stanno più bruciati di me porco due se tutti imbrusai dio c***o ecco 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 dai invitate qualcuno fondamento niente guardi stai invitando a tutti niente niente un taglio che devo andare al compleanno dai via partita vai 28 ciao elenia come stai t'ha posto buone grego leo buone grego leo buone grego lasso poi buone grego vediamo adesso come va a finire attenzione abbiamo una sub Stefano grazie per la sub bello mio vediamo un po' era buono il pochè sì sì grazie era molto buono broski mi sa che non riesco ad entrare oh no vabbè dopo ne faccio un'altra 17 persone ma sono crashate un sacco di persone raga eh sono crashate un sacco di persone la rifacciamo vai vai la rifacciamo la rifacciamo la rifacciamo è entrata che si è un sacco di persone la rifacciamo Sei pronta? Dai rientrate tutti Dai muoversi che siamo in privata Porco due sveglia Sveglia Ok let's go Che squadra Andre? Singolo Aspetta Dai singolo Perfetto Daie 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 Entrare Dove cazzo ci ha buttato? Regà venite dai Invitate gli amici Dai non perdiamo tempo Non ci mettiamo una vita ogni volta Errore Tapion Freak Slick Eh lo so lo so Invita Invitate Invitate gli amici Entrate subito Ok Siamo in 19 Sono pochi Ma com'è possibile che fino a poco fa Eravamo In 40 Perché stavamo in partita Stavamo in partita Persi C'erano almeno 20 persone In la partita che ho appena lasciato Eh ho capito Che cosa è successo? Ebo Non mi è chiaro Eh raga Erano crashati tutti La maggior parte erano crashati Per quello Allora non vi prendete la squadra 22 Per cortesia Siamo in singolo Siamo Tutta la 17 Mannaggia Eh infatti aggiungiamo La 22 Vado Vado Metto 23 A persiani Metto 23 Giuggi Bella Bella ragazzi Invitate i vostri amici Così riempiamo sta lobby Andiamo a fare un po' di singolazzo Cattivo Poi magari ne facciamo una Ma come è che è singolo? Su come cazzo si chiama Fortune Ma singolo su Fortune Skip? Adesso siamo in singolo Su Come si chiama? Su Mamma mia che bruciati che siete Oh madonna Ma fratelli Che dobbiamo prendere un cazzo enorme Non ho capito Mamma mia Questo Orco 2 C'è una signora C'è una signora Oh white smokers C'è fra Bro che l'hanno ha fatte Le private in singolo Ma come mai in singolo? Ascolta Te mi sa che devi andare un pochino meno al bar Fra Ma frate Privati insieme Abbiamo fatto Abbiamo fatto un sacco di quartetti E ora facciamo uno singolo Ok? Avete paura? E che ne so No Sono arrivato ore Mazzano Sei stressato fra Che hai fatto? Non l'hai scopato ieri sera? No L'ho scopato E allora Che qual è il problema? L'hai scopato? Io frate Quasi tutti i giorni Sta andando bene ultimamente Fra Tranquillo Meno male Meno male Sentino Meno male Meno male Se non è un casino Aspè aspè Sono Massimino Di quarto Scusa Mi sono trasformato subito In avvoltoio Prima che ci mordo La giugolare col becco Voglio capire una cosa Signorinissimissimissimissima Sto cercando Sta agenda scuola Per la scuola Proprio tipo È quella dei tamarri Quello con le parolacce da colorare Dentro c'è Il misuratore di grammate Il bilangino No Quello che ogni giorno della settimana È chiamato con le parolacce Tipo il mercoledì merda Il lunedì schifo No Non ce l'ho Ma sto parlandissimo Perché mi sta interrompissimo Che fretta hai Devi vendere le mattite colorate Ce l'hai le mattite colorate Assolutamente sì Vabbè Vabbè Vengo lì dai Ciao Ciao bella Grandissima Simpatica Sono pazzo Ragazzi Tutti dopoati questi Ragazzi ci siete? Ciasi di l'enzi Siamo in privata Ci sono 32 persone Raga Non parla nessuno Cioè Sono tutti Squilibrati Squilibrati Uno più squilibrato Dell'altro Incredibile Io sono sconvolto Start Ho startato Frate Ma perché non vi sento? Sto strano qua Eh Dice sessione non valida Frate L'ho appena startata Per quello Per quello Forse non ti fa entrare Ego Stai attenta Vediamo come va a finire Questa partita ragazzi Sono proprio curioso Non capisco Dice sessione non valida Eh frate Non lo so neanch'io Perché fa così Te lo giuro fra Vabbè facciamo questa E poi torniamo Start Cioè chiudo il gioco Lo riapro Vediamo come va a finire Ragazzi Vediamo come va a finire Ragazzi Ragazzi Sto pad di merda Avete visto come si è bloccato Eh è una merda Ragazzi È proprio una merda Quando fa così Guarda come giocava Anka Guarda come giocava Anka Guarda come giocava Anka Che principianti Guarda come giocava Anka 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Mi fai scherzi. Mi si blocca in continuo. Buongiorno. 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 città Dai basta camperare Regà però Basta camperare Cristo Basta Che palle Fra Questo con fantasma Bro Questo con fantasma Grazie. Sì, è privata, è privata. Porca miseria. Guarda che paura che hanno! Ha perso pure il fight! No, mamma mia, si perdeva il fight, frate! Grande, Ilenia apprezzo un sacco, lo sai. Che noia sta privata al campeggio, sì, ho visto, bravo, ho visto, ho visto. Tutti camperati, frate. È così, privata singolo, è così, ragazzi, sono tutti spaventati. Sono tutti spaventati, raga, non c'è stile, non c'è gusto. Io spero sempre che la mia community, dato che mi segue, abbia un po' preso il mio stile di gioco. Il mio stile di gioco è cattivo, vai a prendere la gente, capito? Non c'è tempo da perdere. Qua la gente sta ferma per sentire i passi, capito? Cose che non fanno quando si interzetti i cartetti. Quello è vanca. E' morto. Ok, andiamo. Cioè, guarda, neanche quello lì, quello lì non pusha neanche, capito? Guarda, guarda, guarda. Nessuno se la pusha, fratele. Nessuno se la pusha, tutti paura. Guarda che lavori! Guarda che lavori! No way, bro. 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 No way. No, Matteo, stavo guardando l'endgame. Dammi un attimo. Io i messaggi li leggo sempre quando finisce il game, fratele. Adesso li leggo, tranquillo. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, fratele. Stai sereno. Dammi un attimo. Ok, fate partecipa. Allora, inizialmente mi stavi sulle scatole. Col tempo ho iniziato ad apprezzarti sul serio. Aveva la sincerità e dagli è persa. Ti ringrazio, bro. Apprezzo un sacco per le 100 e ti ringrazio anche per le parole. Gentilissimo, bro. Gentilissimo. Ciao, Alberto. Come stai, bro? Ehi. Io stacco. Sì, anch'io faccio l'ultima poi stacco. Mamma mia, però che camperaggio, porco due, regà. Fra, 12 kill buttate nel cesso io. Fra, ma ti stavano camperando tutti. Ma singolo è così, fra. Eh, noioso, bravo. Cioè... Eh, sì. Cioè, noioso no, perché se ti gira bene la partita fai le kill. Però... Cioè, se non ti gira regrenare è quasi impossibile. La faccio l'ultima, guarda, solo perché mi va di farne un'altra con i ragazzi. Però, sì, cioè... Ok, dai, se l'ultima me la faccio, dai. Ah, che schifo. Quartetti. Non era quartetti, raga. No, era singolo, questo. Eh, la mia prima partita è singolo. Eh, la mia prima partita è singolo. Ah, non mi piace più singolo, mamma mia, ma perché come è? Ma, guarda, la mia prima partita è la prima partita è singolo. Eh, io ho visto che c'era uno lì davanti e ho detto, vai, mi cazzo nel mezzo, sì, riuscite un push. Eh, eravate tutti camperati, comunque. Ma che c***o. Ma è singolo, cazzo, non puoi camperare. Ah, frate, il singolo devi andare, devi pusharti, devi muoverti, devi divertire. Per forza, per forza, per forza. Cioè, cazzo stare fermo. Non c'è modo che stare fermo, non c'è modo. No, io ho visto un sacco di gente ferma, frate, un sacco, che aspettava di sentire i rumori. Ma veramente? Sì, 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 è ridicolo. Eh, quella è perciò, per carità. Posso dire, posso dire che era appena salito dalla nave che c'era uno lì sotto. Più di questo, io comunque non sono un pro player, cioè ho uno e il 25 di rato. No, ma chi sta parlando? Di rato. No, nel senso per farti capire, comunque non lo so quante kill avevo, cioè per me già comunque sono un po' No, frate, io sto parlando di alcuni, alcuni ho visto Vanka fare di quelle cose allucinanti. Che comunque ho sbagliato nel endgame, perché quando l'ho cecchinato e l'ho craccato lo dovevo pushare. Però mi sono lasciato prendere, mi sono fatto prendere dall'ansia, perché c'era un certo tipo che mi guardava e mi osservava e quindi... Vi giuro ragazzi, la mia prima parità in singolo su Rabbits. Ve lo giuro. Come è andata? Sì, anche, non l'avevo mai fatta, a me non piace molto giocare. No, ma io proprio non gioco a Rabbits. Io ho fatto la Samba Persi, io ho fatto la Samba Persi e ho fatto la live e niente, mi sono aggregato proprio per giocare col Persi. Sempre Caldera. Sì, l'ho visto ogni volta che entro e magari mi viene l'idea di invitarti, però spesso vedo che sei in partita su Caldera e spesso non ti invito. Perché ogni volta ti vedo online, vedo che sei online e vado a live e subito sei comunque in partita. Ciao Luigi, grazie per le 100. Sei presingolo? Sì, facciamo l'ultima che poi stacco, raga. Ditemi. Persi, ma quando è che organizzi una giornata su Caldera? Quartetti, coppie, sì? Ma frate, ma te l'ho già... Ascoltami, vedi che non mi ascoltate. Non mi ascoltate, non mi ascoltate. No, bravo, non dipende, magari ero in cucina a cazzo le cuffie erano di qua in salotto. Dico, è impossibile riempire un Caldera, guarda quanto tempo ci stiamo mettendo per riempire. No, ma io la parola di private, anche con le sub sto parlando, non è solo private. Ma frate, le faccio sempre, ogni martedì, ogni giovedì, solo questa settimana abbiamo saltato. Eh, non lo so, però ho detto, ma la sub è la prima volta a questo mese, non so... Ah, ok, ok, va bene, ascoltate. Per settembre vi butto fuori le locandine, vi butto fuori la locandina, così sapete che ogni martedì e ogni giovedì sera c'è... Sì, sì, sì. Tu immagina che giovedì hai fatto la giornata sub, io mi sono sparato 15 ore di lavoro. Ecco. E ti stavo seguendo dal lavoro, immaginati. Vabbè ci vuoi far sapere quando c'è il giorno di festa, così facciamo le sub night il tuo giorno libero. Brava. Questa è un'idea, questa è un'idea. Ah, vabbè. Mamma mia Sara. Vado a prendermi la squadra. La mano sul collo proprio. C'è posto? Entra! Non entra cazzo, regà, non so perché non mi fa entrare, non lo so. Eh, ma pure a me sto invitando tutti, molti mi scrivono, non mi fa entrare. Non lo so perché non mi fa entrare, regà. A me mi buttava fuori. Non mi faceva entrare, ragazzi. Non mi faceva entrare. Non ho idea, regà, veramente, non ho idea. Il singolo è buggato. Mi hai fatto prima. Sei veramente una brutta persona. Sono una piscia, sono una piscia. Sei veramente una brutta brutta persona. Oh, ma io ti ho beccato prima. Beh, eh. Eh, la prima chi l'hai fatto su di me? Eh. Eh. Leggeteli i nomi. Appena sono morto, tu hai detto... Eh, sì, bravo. No, ho detto, quando hai fatto il giumore, ho detto, puf, il tisterizio. Io non ho fatto il den balleggio. Beh, mi hai ammazzato là sotto. Mentre che sparavi me, sparavi anche l'altro dove c'erano i due loadout sotto control. Ah, sì. Ero quel tipetto messo abbassato dietro il muretto che hai attaccato. Oh, ragazzi, ma l'MP40 a blu quanto è forte. L'MP40 a blu, ragazzi, è fortissimo. È potentissimo, è velocissimo. Incredibile, è incredibile. Io ho giocato senza loadout, te lo giuro. Ho preso un'arma da terra, l'M4. Hai vinto? Hai vinto? Eh, sì, va benissimo. Ma Taiso, perché hai tolto l'ID fra? Ah, ho capito? Perché hai tolto l'ID? Non c'è più l'ID in chat. Non c'è più l'ID in chat. Ma non c'è più l'ID. Fondavento mi ha messo il like adesso. Ti rendi cont... Mamma mia che bruciato qualcosa tu hai. Mi ha bruciato, è bruciato. Cioè dai che è l'ultimo. Dunque non prendevo il cecchino da un secondo tempo e mi vado a fare la sniperata del secolo della vita con Tessian. Grazie, bro. Occio ti ha invitati nella parte. Eh, occio. Mico mio. Dite, guardi, te ne metti. L'unica cosa... La cosa bella che ho visto? Che nessuno aveva lo scudo. Porca puttana. Ce n'era uno, ce n'era uno, ce n'era uno. Mamma mia. Ce n'era uno, ce n'era uno. Mamma mia. Tu mica c'hai qualcosa sul tuo... sul tuo party. C'hai il party aperto tuo? Io, certo, fratello. E non solo il party c'ho aperto, sai? Ah, coglione di merda. Non lo so, non entra nessuno, fratello. Non entra, non entra. Questi sono proprio gentili personali, eh. Orca. Bullizza, ti bullizza. Minchia, ma mi ha inflato praticamente giù a contro, mi ha fatto finire la partita. Permetti capito che me lo sfotto un po'. Eh, senti, lo vuoi stare così, 26, dai. No, no, no. Eh, lo so, eh, lo so. Comunque non ti vedo più online. Il fondamento non lo vedo più. No, salve è staccato. No, fondamentalmente... Sì, salve è staccato. Ah, ok. La cosa strana è che, cioè, ci sono alcuni che riescono ad entrare, altri no. Cioè, tipo, ci stanno ragazzi che in momento aggiunto... Eccolo. Cioè, io lo... Accetto. In alcuni momenti... Per esempio, a me non mi ha fatto manco scegliere la squadra in questo momento. Ancora, siamo in singolo. Ma questa fa che siamo in singolo. Singolo? Scegli. Ah, vabbè, vabbè. Vabbè, c'ha 50 anni, raga, portate pazienza. Ah... 50 anni... Stai ceppola. Stai ceppola. Persi, puoi riavviare il gioco per piacere? Oh, 30, vai, fatti, fatti. Aspetta, aspetta, aspetta. Riavviare il gioco? Quali? Secondo voi, se riavvio il gioco vi fa rientrare? Tyson, metti sto cazzo di... No, no. No, starta, starta. Sì, devi fare l'ultima, approfitta di questi 30, Fra. Vabbè, vabbè, approfittiamo dei 30. Guarda, già qui, Itano. Sì, vi horrenda. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Quando viene una buona tatuata sono io, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tre ore che dico ID ma vai a cagare. Giuseppe mi dispiace sei arrivato tardi e comunque fidati che l'ID c'era fino a qualche minuto fa l'abbiamo tolto perché è l'ultima partita. Se mi devi mandare a cagare per queste cose qua frate va bene così che non sei dentro. Bello aterrallo per se. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Melody lo prendiamo dopo. Dove cazzè la gente? Grazie a tutti. 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 Centro safe. è esposto proprio. Grazie a tutti. sono in due. sono in due, sono in due, sono in due. attenzione. gara, chi sta più fermo. Attenzione a tutti. game. Vedere non vedo Eh Eh la gente non pusha quello a tenda E ti ha fatto la minestrina quattro volte Eh frasi Non sono mica il più forte del mondo eh Oh mei nint La trill Bravi bravi ragazzi Va bene va bene va bene va bene Ragazzuoli La sessione private è finita Ci rivedremo sicuramente più tardi Che facciamo un po' di singolo Ok Facciamo il singolo del sabato sera Non so quante ore giocheremo ancora dopo Penso sicuramente faremo una bella sessione Vi voglio vedere attivi Quindi mi raccomando non mancate E basta raga Io stacco ci becchiamo dopo va bene È stata una sessione interessante dai È stata una sessione interessante Va bene ragazzuoli è più tardi Non mancate ci becchiamo più tardi Scusami Sfu Scusami Stuggerone Stuggerone Molto divertente Molto divertente Devo dire Molto divertente Ragazzi Devo lasciarmi subito Perché mi sto cagando dosso Ciao A dopo